con quelli prima di iniziare il video sotto troverete il link per comprare le magliette su che i calcio praticamente questo link vi rimanderà un altro video dove sotto potete trovare il coupon donato per avere il 10 per cento di sconto più il sito che di che i calci perché gay calcio perché noi continueremo a vendere tranquillamente stiamo facendo tutti così ed è giusto non vogliamo non violiamo di suonare quindi sotto vi metterò il link dell'altro video dove potete comprare le magliette che vi ho fatto vedere ieri stai facendo come io vendendo i quattro bocchini avete fatto qui c'è la capo con la zocca ma faccio il cagapo allora voglio buongiorno da san salvo vedete che bello umore faccio un'ora di buca a scuola ma mangio un gelato con i yogurt niente volevo ritornare un po' sulla partita di ieri come al solito ero convinto al cento per cento che gli uventini avrebbero gridato lo scandalo perché giustamente quando ci sono i rigori in aria loro potrebbero falciare senza avere mai le punizioni di che massi quel calcio di grano vendete perché se tu mi ne capisci come con il cesso di deletto che hai pagato strammento un'altra vittoria del maestro te lo dissi appena lo comprano due anni fa che quello era un bidone di merda qui l'avete accattato da quello scema solo perché aveva fatto gol che l'ajax qui l'avete accattato tutti gli ucatelli che vanno porgono e vanno cacciando qui quindi deletto capito perché 80 milioni ci dice l'anno di contro attacco con un botone che se vincere e c'è non trovo trecino di me chi dice non so è un calciatore irruento lento un caccavone di giocatore fa schifo quel giocatore là dice ma come nel laia ma l'ajax era nata che stava blando lui faceva come si dice da raccordi qua purtroppo andai juventus qua devi prendere responsabilità non è che si chiama su gandalaia che è tutto buono la tutto voglio non l'acqua purtroppo responsabilità non è e siccome le responsabilità aumentano sono uscite tutte le magagne di un giocatore che io ho ritenuto immediatamente scarso e siccome molti juventini hanno sempre detto quando anche arrivo qualche partita deletto faceva questa deletto ma di quello è più dei più grandi del mondo capisci non cazzo ma quando la chi vende da battaglia ma che metta con tutti i battagli che vende cioè qua ci stanno 15 anni di attività la gente si è un fallito pagliato ma tu prima ti parla che a me ha fatto l'arbitro luca pesci o no 15 anni ti metto l'arbitro alla parrocchia no leccelle tu non ci arrivi in inter regione perché tu sei un capo non ci arrivi devi andare a fare una partita undici contro l'arbitro i tuoi amici usi quando a putz putacchia di me la mia compagnia te usi quando a dici si ruffo punga capisci luca te regolamenti ti insulterebbero e lasceresti il fischietto a te e te ne andresti cioè ieri per esempio se devo vedere la partita d'arbitro il rigore di Lautaro Martinez visto che gridate allo scandalo non è netto è strano è una tre falla sopra qui a sapere che metto un pito in bacio a buon occio ma a velocità naturale a parte che delit falcio Lautaro Martinez non l'hanno fatto vedere quel fotogramma avanti però siccome voi siete nell'era dei fotogrammi è buono quello diccome voi vi vede nelle eredze dei fotogrammi allora poi voi qui loro amici un calcio bus è basato sopra un fotogramma blocchiamo ecco vedi le aggancio il piede è una frazione del secondo la dici ma ma il VAR che c'è ma lei il VAR non può intervenire non sapete neanche il regolamento del VAR quello è un rigore che decreta l'arbitro nel campo e non è un errore grossolano è a suo rischio e perino nel senso che ha giudicato l'Abbia e il VAR non può intervenire diversamente il secondo rigore io l'ho capito Valeri lui ha avuto il sentoro la sensazione che devrai fosse stato falciato però giustamente ha detto che ha fatto finire però poi quando è stato richiamato dal VAR è dovuto andare perché onestamente l'ha falciata senza VAR io sono convinto che Valeri quel rigore non l'avrebbe dato perché chi ha fatto l'arbitro come è capisce che si è appena dato un rigore per dare un secondo rigore che poi dall'altro forse era molto più era stranetto più il secondo che il primo per dire c'erano tutti e due ma quello era ancora più netto perché lì delitto il grande delitto 80 milioni decide di arrivare in ritardo su devrai e falciarlo però la colpa è di Valeri e dell'Inter che compra gli arbitri su quattro partite non avete vinto una volta quest'anno con l'Inter l'avete perso in Supercoppa al culo al cento vendesimo mamma Massacre in casa meritavate forse di non perdere però vi ho detto io che il giro sarebbe finito quindi avreste perso quest'anno avreste chiuso a zero e ve l'ho detto ad agosto quando troppi video sono stati cancellati in un Udinese io e gli ho detto il ciclo di Allegra è finito l'ho detto ad agosto ho detto quest'anno non vincerete un cazzo uno perché avete cacciato Pirlo in maniera indegna e compirlo secondo me quaccata coppa l'avreste vinta siccome voi siete dei coglioni con un presidente coglione con dei tifosi coglioni che tifosi vivendo in media chi vi è andato a vedere quel altro coglione portale biancone ma perché non si vanno a chiuso a andare a andare a andare a capi quelle leggende che sopra youtube non ci dovrebbe stare non si sa da mezzo per youtube a farvi venga a piscire un cazzo questi vanno a stare vanno a sbraitare interi sta pezzo di merda ma io non sono così io non vedo il cazzo così purtroppo non lo capirete mai voi mi vedete dove state perché a sbraitare vedete un fotogramma vedete un fotogramma vedete un fotogramma Instagram o state a insultare l'avversario beh il pallone non è per voi ti dice incompetente a me tiri i miei provi che non sei incompetente che c'è perché posso sbagliare le pronosti che c'è questa ditta io però alla lontana le cose le azze cose le carte che ha fallito lì si vede la competente non ho risultato che aveva detto il vero non potrebbe andare a giocare l'avversario posso sbagliare non è che ha detto che ha azzeccato capito cosa vuoi fare? però l'Italia che è scelta la macedonica che aveva vendito a culo quella non è sparata a cazzo è basata su fatti concreti perché avevo visto che l'Italia effettivamente è stata baciata dalla buona sorte la Juventus che era fallita io ho detto i cavalli di ritorno non vanno mai bene con Allegri dovevate già vincere quest'anno e avete fallito strafallito perché Pirlo l'anno scorso contestato è arrivato quarto sebbene a culo all'ultima giornata però ti ha portato due trofei voi invece l'avete cacciato avete preso Pippaovic 90 milioni che non vale neanche 45 avete preso quell'altra Pippa di Zaccaria avete sprecato 250 per entrare in Champions allora di che? avete sprecato i soldi arrivavano di bello molto cacciato che comunque su Dybali io sono d'accordo con la Juventus che voleva 7 milioni uniti che 6 di voi che 3-4 partite che fu se voi è buono da quel punto di vista per me ha fatto bene la Juventus a non rinnovarlo certo se vuole venire all'Inter diciamo che è guadagnato come giocatore un giocatore diciamo di livello che anche se non potesse giocare 30 partite me ne gioca 15 vendita subentrante qualcuno da titolare a differenza ha potuto fare ha potuto fare però non è che a me mi fece un bacino anche si era ha fatto una buona partita quindi ci sarà il passaggio di consegne l'anno scorso e vinto Coppa Italia è solo un anno che non vincete e già venne andate all'impazzimento purtroppo quei 9 anni di seguito mi hanno un po' bruciato il cervello eravate troppo abituati a vincere i campionati ad aprile senza avversari quando le milanesi facevano schifo perché tutti avevano Vidal Perle Pogba Tevez Marchesi e compagnia bella Buffon Barzale Bonucci e noi siamo con Kuzmanovic Podolski Icardi con i quattro cessi che andreva con il vecino ecco perché tu vincevi caro Juventino e noi non vincemmo mai perché tutti in una squadra i campionati eravano in aprile aprile a maggio cioè non c'era un avversario ma per forse ne mi dedici hai capito? invece noi capito eh stiamo la a marzo aprile e naruomo manca aiutarci aiutarci un scudo niente per dire comunque vi voglio dire quella cioè ve la prendete un po' troppo perché purtroppo ci sono cicli cicli e il ciclo Juve è finito molti dicono il prossimo anno vincerai ma il prossimo anno sarà come questo non è che vinci immediatamente perché adesso stanno uscendo altre squadre il Milan può andarsi che si rinforza l'Inter più o meno starà sempre lì il Napoli darà filo da to uscirà la Roma è finito con il ciclo quello è un ciclo ripetibile purtroppo chi te ne vince ha visto la Juventus vince la unica 18 e se pensi che ogni anno la Juventus ha da vincere nooo ma non passano tre anni la Coppa non vince più la Supercoppa non vince più è difficile che si fanno incastrare di nuovo tutte le cose come Allegri Allegri che ritorni e vini nooo Allegri se tu vieni tre anni hai sprecato 30 milioni per non vincere niente a parte che Allegri prima teneva una squadra metà la squadra che teneva prima i Guaini e i compagniabelli abbiamo avuto i Guaini in questi anni e poi quello vinceva vinceva la Juventus ecco tutto ciò i Guaini là vi abbiamo fatto pure soffrire perché vi abbiamo battuto in casa 2 a 1 perché abbiamo pareggiato la Juventus Stadium che è il Podolsk il Schakir guardate che mangiate vanno battuti in Coppa Italia quella volta che ci avete sbattuto fra i ragazzi buono che poi avete perso mi sembra che il Milan ha finito quindi qualche cosa ve l'abbiamo creata qualche fastidio è normale che poi dalle dalle il tuo ciclo finisce perché è una cosa normale hai vinto per 9 anni ora per 9 anni ti hai visto che un cazzo in culo tu invece tu pensi che l'anno prossimo turno ma ti fai ti dite pure che Vlaovic non risolvo problemi perchè Vlaovic andava a Fiorentino e faceva i gol e non poteva fare nulla di Fairo ha fatto quello che è stato pure fortunato perché sono quella azione a fare è un tiro d'andano perché era tornato la palla e l'ha feccato un po' capita ma non mi sembra tutto questo granchetto di giocatori io quello vi volevo dire poi voglio farci quello che volete però voglio dire agli Juventini i rigori se nel regolamento dici che ci sono dei calciatori sgambettati nelle rigore sul calcio di rigore se un regolamento esiste una vita fai e basta con questi bambini a scrivere ruba ma chi ruba dove sono le prove che l'Inter sta impazzendo non hai una prova di quello che dici cosa dici l'Inter cosa deve rubare hai le telefonate che Marotta ha chiamato gli arbiti per darci il calcio di rigore se noi andiamo in area di rigore 30 volte 20 volte più è normale che prima o poi potete capire una sgambetta una cosa se tu sei potuto dire uno di 30 anni e te ne vedi la fede la colpa del gruppo e perché non lo dici? a lei la colpa è la tua no la colpa è dell'arbiti o l'arbiti trova varro ormai la storia è sempre quella per 9 anni avete rotto il cazzo avete visto che l'arbiti trova varro quando aiutavo io avevo l'inter io non me l'avevo preso neanche con l'arbiti perchè ho detto 2 a 1 quel coglione di spalletta andò a togliere i card e cosa e perdere la partita di tutto l'interesse ma l'arbiti l'arbiti è relativa l'arbiti è relativa l'arbiti è relativa l'arbiti è relativa quindi se sopra quattro partiti l'interno l'hai battuta la colpa sarà la tua perchè pure l'andata aveva perdita a Milone hai avuto un rigore a fare l'occhio sopra l'Alexandria e hai fatto una U l'arbiti è ritorno e poi si è ritorno e poi si è ritorno e poi si è ritorno e spero che questo karma succeda anche con Milano che noi avevamo già vinto lo Scudetto nel 2002 speriamo che nel 2002 o nel 2022 succeda il contrario poi i milanisti onestamente voglio dire che secondo me siete facendo troppe feste io vi dico state attenti perchè nel calcio nel calcio nel calcio vedete che fin quando l'arbiti non fischia ci possono essere sempre sorprese quindi attenzione che vedo troppe festeggiamenti in giro e troppa gente che si dice ma abbiamo già vinto perchè pure noi abbiamo vinto il 2002 con stati a favore 80.000 interisti che l'azio abbiamo perso abbiamo vinto la U.A. aspettiamo da 12 anni scudetto è una delusione enorme è una delusione enorme potrebbe anche succedere il contrario che l'Inter vince quest'anno e si riprende quello del 2002 quindi questo lo vedete cari U.N.D. rilassate vieni qua questi capigliano amore rilassate perchè tanto un ciclo il primo tempo finisce e non è che vince l'anno che viene nooo ma tutti avete capito tutti i cosa avversi questa partita sul 2 a 1 un'altra scuola avrebbe persa ieri però siccome devi perdere perchè il ciclo sta finendo Allegri non è che voleva scappottarsene con la coppita non vince più questo è il primo anno dopo 10 anni hanno passato 5 6 anni a me secondo me fra 5 o 6 anni poi rilassate il scuola intanto ora sono passato già 2 già quest'anno aveva vince Callegri vince si è ruotato il quarto posto e ne vince l'anno che aveva arrivò il terzo posto il terzo posto fra 4 anni arrivò il secondo forse fra 5 anni hanno cominciato la lotta prima ma non è che vince solo non è che vince solo non è che c'era il tempo poi il buonoccio il barzaglio il quadrato se ne vuoi non è che durano le terre questi giocatori prima aveva un squadrone e vinceva a fare i milanese non c'erano e vinceva a fare ora sotto uno dei milanese dice ma io sono sparato mica tanto Vlaovic Zagarella tutti i giocatori che hai pagato i 100 milioni non mi sembra che non hai speso soldi a gennaio hai fatto un investimento di capitale quindi noi per esempio quei soldi quando stavamo in crisi mai li abbiamo spresi mai questa è la differenza statevi calmi non vi incazzate perché tanto prima o poi ci chiedete a fare ora come si dice quando si incontra quando si incontra ma ora si incontra e si incontra ma beh forse entro e dovete parlare una bella cosa vedete che sotto al video c'è l'opzione grazie per chi non può fare le live chat per chi non può entrare nella live nella live streaming è la stessissima cosa potete andare sul cuore e potete fare una donazione 2 euro 1 euro e vi esce scritto praticamente il messaggio che avete donato provatela questa cosa quindi per chi ne ha potuto donare la schiacciate grazie vedete sotto c'è il cuore c'è e potete fare la donazione con super chat come la live streaming voglio vedere proprio quanto ne facciamo vabbè vediamo se questa opzione è fondata ieri Fisciano ha donato 5 euro ed è uscito nel primo commento vabbè aspetto tante donazioni per chi non l'hanno donato ieri sempre forse inter ci vediamo stasera nella live ciao